570 nuovi casi di covid oggi in Abruzzo, circa l'11,5% dei 4.995 test. Mai ne erano stati processati così tanti in 24 ore. Riguardano persone d'età compresa tra 1 e 98 anni, 141 sono residenti in provincia dell'Aquila, 125 in provincia di Chieti, 120 nel Teramano e 178 nel Pescarese, mentre 7 provengono da fuori regione. Sembra quindi essersi ridotta quella differenza di nuovi positivi tra le aree interne e la costa, ma, dicono gli esperti, è troppo presto per parlare di un vero e proprio trend. Noi non possiamo, per un dato che al momento è solamente di uno o due giorni, pensare che ci sia un trend e quindi la tendenza ad avere un maggior numero di casi positivi sulla costa piuttosto che nell'entroterra. Quindi dovremmo sicuramente aspettare qualche giorno e poi magari ragionare sui numeri e vedere quindi quella che è la vera tendenza. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 20 nuovi casi e sale a 851, d'età compresa tra 53 e 97 anni, 13 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara e 6 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 17.334 più 302 rispetto a ieri. Di questi, 694 pazienti più 18 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 74 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 16.566 più 282 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questo lockdown morbido sicuramente sta dando i frutti sia nella nostra regione che nel resto della nazione del paese e in effetti noi osserviamo un minor numero rispetto al recentissimo passato di casi letali, di casi che sono andati in rianimazione, di casi globalmente che hanno richiesto un ricovero in ospedale. E mentre l'indice RT di contagiosità si abbassa il livello nazionale, attestandosi mediamente sotto l'1,2, rimane però la preoccupazione per le feste, soprattutto perché siccome il virus si accentua con il freddo, la situazione potrebbe peggiorare nei mesi di gennaio e febbraio. Manca meno di un mese al Natale e si avvicina il fatidico 3 dicembre, giorno in cui scadrà l'attuale DPCM e le misure restrittive potrebbero essere rinnovate. Nel recente periodo estivo purtroppo molte persone non portavano praticamente mai la mascherina, si sono state assembramenti, feste e quant'altro e quindi poi la situazione attuale in realtà è figlia di quella situazione di non attenzione generale. Quindi ovviamente un po' sono preoccupato perché le feste di Natale sono molto sentite in Italia e da noi forse in particolare, per cui si ha appunto la voglia di abbracciarsi, di abbracciare dei familiari, degli amici eccetera. Bisognerà stare molto molto attenti.